che oggi, con un anno di esperienze di studio, di conservatorio, di esperienze in festival e luoghi di abitare ad arte canola, hanno accettato di condividere con i genovesi e con tutti quei turisti che hanno voglia di vivere la città in un modo diverso, più diverso, più vero, i propri italiani. E quindi oggi, mi rendo semplicemente voce alla cosa che hanno scritto loro per presentarsi. Riccardo Grinella, rientro di partecipare nuovamente in questa sala, che ha laureato in organizzazione di barchese in musica, si forma la genoa del 1988 sulla bida di signor Derti. Signor Derti ha la ricerca e l'approfondimento del repertorio corale del sole, oci per vivi, attraverso studi e ricerche. Signor Derti. 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 Grazie a tutti. 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 Santa Maria, Madre di Dio, prega e a tutti. Grazie 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 a tutti.